più tranquilli, che se si gioca con certe requisità magari viene anche per gioco, vengono i risultati. Le chiedo un'ultima cosa, a Monza si mormora di una possibile cordata disposta ad acquistare la società, è una voce che ci conferma o sono solo fantasie? Questa voce è già due mesi, tre mesi, io ho detto sempre, come voi lo sapete, se c'è qualcuno più breve di noi si faccia avanti, che noi tanto di cappello ci mettiamo in un angolino, o se c'è qualcuno che vuole credere in questo progetto che la mia famiglia ha portato avanti, noi siamo aperti a discutere. Chiaro, ma nessuno finora ha bussato la sua porta per acquistare il Monza per ora? Lo smentisce? Ma al di là di una società che stiamo dialogando, che stiamo dialogando, è un discorso serio, però è tutto in alto male, adesso speriamo che manca ancora due mesi e se c'è qualcuno che vuole fare dei programmi, deve fare adesso. Grazie Gian Battista Begnini, presidente del Monzo, ovviamente in bocca al lupo ai Brianzoli. Franco Farina si è stato...